M-52 è un ammasso aperto situato in Cassiopeia con una notevole concentrazione stellare paragonabile ad un ammasso globulare affollato. Al suo interno vi sono almeno 3000 stelle che vanno dalla magnitudine più 13 fino a più 16. Se osserviamo l'ammasso a medi ingrandimenti nuteremo la sua forma a coda di pavone con il suo fulcro nella stella luminosa, colore giallo-oro che comunque non appartiene all'ammasso. Con telescopi con diametro superiore ai 20 cm si potrà sgranare meglio l'ammasso e notare dei graffi virtuali, insiti nella parte nord-est dell'ammasso. Sono come delle unghiate visibili come strisce oscure che corrono parallele creando dei vuoti stellari davvero curiosi.